Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori ricoverato in ospedale, il noto personaggio Ore di paura in tutta la nazione, prima di saperne di più, prima di scoprire cosa è successo e a chi vi ricordo che a 400 like pubblicherò immediatamente un nuovo video Ore di paura e preoccupazione per il noto personaggio che nel giro di poco tempo finisce ancora una volta in ospedale, c'è tanta apprezzione su ciò che sta accadendo in queste ore in generale, in questo periodo al ministro Guido Crosetto che è stato ricoverato in ospedale per la seconda volta in poco più di un mese, un malessere generale durante il Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale sarebbe questa la causa che ha costretto il ministro a ricorrere al ricovero in ospedale al momento, il ministro Crosetto è ricoverato ancora una volta all'ospedale romano San Carlo di Nanzi per la seconda volta in poco tempo e il primo canale di Marco Liguori vi terrà aggiornati sulle condizioni del ministro con la speranza di fornire a breve buone notizie amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video ciao a tutti ciao ciao